Ciao a tutti, io sono il Dilan Dogofilo. Oggi recensione della storia I vivi e i morti. Una storia apparsa originariamente nel nono albo speciale di Dilan Dog, poi ristampata in un albo limited edition uscito nel 1999 e infine una storia che ritroviamo sotto forma sempre di ristampa anche in questo superbook numero 29. Copertina di Claudio Villa, questa volta con un tratto diverso dal solito. Infatti Claudio Villa tende più ad interpretare un tratto più cubico simile a quello di Piccato oppure di Siniscalchi che sarà oltretutto il disegnatore di questa storia. Un tratto che a me particolarmente non piace, preferisco le altre copertine di Claudio Villa, questa qui non mi va davvero. Inoltre la pistola Bodeo è un attimino ridotta di scala, quindi non è neanche stata disegnata giusta come dimensioni e qui dietro invece abbiamo delle entità sconosciute perché anche all'interno della storia io onestamente non le ho ritrovate quindi non capisco da dove sono saltate fuori queste facce qui sullo sfondo. Testi di Mignacco e disegni, come vi dicevo, di Siniscalchi. Cosa succede? Dilan non è la prima volta che va all'inferno. Questa volta c'è stato un incidente, quindi una famiglia ha fatto un incidente in macchina, il padre, la madre e la sorella muoiono mentre il fratello rimane vivo. I morti, questi morti vanno all'inferno perché sono stati cattivi nella vita. Però il fratello lì, questo bambino, vuole seguirli, non vuole abbandonare la sua famiglia. Di conseguenza sarà l'unico essere umano vivo ad entrare nel mondo dei morti che può essere uno dei tanti infermi. Toccherà dunque a Dilan Dog andare a recuperare questo bambino perché se no si crea davvero un subbuio, un casino. Il mondo dei vivi deve appartenere ai vivi e il mondo dei morti deve appartenere ai morti. Dilan verrà ingaggiato da questa ragazza che sarebbe una sottospecie di figlia di Godfrey. Godfrey è un personaggio apparso già nell'albo mensile La Casa Stregata. Se vi ricordate, non so neanche se ho fatto la recensione, se non l'ho fatta rimedierò a breve, un albo dove questo personaggio aiutava Dilan a risolvere un caso grazie alle sue doti sensoriali e mistiche. Un personaggio che poi è morto e quindi in questa storia sulla Terra ci sarà la figlia ad aiutare Dilan, mentre nell'inferno ci sarà appunto Godfrey che attraverso le sue doti sensoriali riuscirà a comunicare con Dilan. Quindi sia dal punto di vista del mondo terrestre sia da quello dell'aldilà c'è comunque qualcuno di riferimento con cui Dilan possa comunicare. Nel frattempo Dilan ha solo 24 ore per riportare a casa questo bambino, altrimenti dopo il portale, si chiuderà il portale che permette l'accesso tra il mondo ultraterreno e quello terrestre e nel frattempo susseguono diversi delitti per Londra. Infatti Block sarà anche un pilastro portante di questa avventura, ci sarà anche Madame Trelkowski. Tanti personaggi classici del mondo di Dilan interverranno in questa avventura e riusciranno a dire la loro e quindi riusciranno a dare comunque una spinta significativa nella soluzione dell'indagine. Quindi personaggi che appaiono in maniera diciamo molto sentita, non dei personaggi buttati lì solo per riempire le vignette, ma dei personaggi che hanno un ruolo attivo in questa avventura. Come dimenticare il capo di uno dei tanti inferni che abbiamo già trovato in varie occasioni compreso Golconda e quindi questi delitti da dove arrivano? Praticamente si è aperto questo portale, questo bambino sta creando un po' un casino perché ci sono i vivi e i morti che scappano da un universo all'altro e quindi i morti ritornano in vita, sostituiti dai vivi che però cadono nell'inferno all'onissaputa, quindi davvero una continua immigrazione da un mondo all'altro da parte di vivi e di morti. Un vero pasticcio che Dylan fortunatamente all'ultimo secondo riuscirà a risolvere, grazie soprattutto all'aiuto significativo di God of Wake, un personaggio davvero che sa la sua. Bloch in questa avventura poi si dimostra molto legato al suo lavoro e questo è l'ennesima conferma che mandare Bloch in pensione sulla serie regolare è stato davvero un grandissimo errore perché viene più volte rimarcato, compreso in questa storia di Mignacco, una storia oltretutto bellissima di 132 pagine, viene sempre rimarcato l'amore di Bloch verso il suo lavoro. Bloch che afferma in tante vignette all'interno di questa storia che il suo lavoro non lo lascerà per nulla al mondo, come è anche affermato da Dylan qui in alcune vignette. Dunque, tante scene horror, tante scene splatter ben riuscite, tante scene che hanno la loro giusta tempistica, quindi quando ci sono le scene horror viene lasciato il giusto spazio, quando ci sono le scene splatter viene lasciato loro il giusto spazio e quando c'è il momento in cui Dylan deve indagare nell'avventura ha il suo proprio spazio, quindi scene ben delineate tra di loro, è una lettura che assolutamente non stanca ed è molto anche appagante per il lettore. 132 pagine che si leggono davvero lisce come l'olio, una storia che mi è piaciuta molto sia dal punto di vista strutturale sia dal contenuto, dal punto di vista del contenuto ritornerà anche Jack lo squartatore, insomma davvero un mix di tutto il meglio del mondo di Dylan Dogra che il lettore ha imparato a apprezzare con gli anni. Alla fine di tutto, attenzione agli spoiler, chiudete quel video se non volete sapere il finale, alla fine di tutto cosa si scopre? Questo portale interdimensionale è stato causato da uno scherzetto del computer, quindi il bambino ha sì creato scompiglio andando a finire l'inferno nonostante sia vivo, però c'è dietro anche lo zampino del computer dell'inferno, il computer dell'inferno che dovrà pure far qualcosa in tutti questi migliaia di anni infiniti, insomma il computer è destinato, il computer dell'inferno è destinato a lavorare per l'eternità, ogni tanto combina qualche piccolo scherzetto per ingannare il tempo e uno di questi scherzetti è per l'appunto aprire questi varchi interdimensionali e causare un po' di scompiglio, scompiglio nel quale purtroppo questo bambino si è ritrovato a essere vittima. Comunque Dylan riuscirà alla fine a salvarlo. Anche Graucio, molto presente in questa storia, appare nei momenti giusti con le battute giuste, insomma un mignacco che si riconferma soprattutto in questa storia uno scrittore, soprattutto uno sceneggiatore davvero molto molto abile, un mignacco che mi piace sempre di più. Mentre per quanto riguarda i disegni di Siniscalchi, diciamo che in questa storia hanno un tono, scusate la tosse ma sono sempre malato, i disegni di Siniscalchi in questa storia hanno un tono preciso in alcuni punti, forse inizialmente, è un tono che dopo una tecnica di disegno è un tratto che va a decadere mano a mano che si scorrono le pagine, forse per mancanza di tempo, insomma 132 pagine non possono riuscire sempre uguali. Magari Siniscalchi che si è impegnato di più all'inizio e dopodiché con l'andare dall'avventura ha iniziato a disegnare qualche tratto in meno, per dopo però arricchire nuovamente la storia con dei dettagli, insomma dei disegni che sono sempre molto buoni, però in alcuni tratti sembrano un pochino sottotono, vanno quasi a sfiorare una simil tecnica di piccato, quindi Siniscalchi che questa volta offre sì la sua tecnica, offre sì la sua arte, ma alcune volte sembra quasi di vedere dei disegni di piccato, proprio perché questo tratto ogni tanto, non si sa per quale motivo, tende un po' a decadere di qualità. Comunque nulla di trascendentale, comunque sono disegni sempre molto molto buoni. Dylan viene rappresentato abbastanza bene, ha sempre una faccia un pochino esagonale, adesso vado a recuperarvelo, vedete un pochino troppo cubica per i miei gusti, con questi occhi un po' persi nel vuoto, però diciamo che tutto sommato ho visto rappresentazioni del volto di Dylan peggiori. nelle donne Siniscalchi riesce a donare un'ottima femminilità e anche un'ottima appartenenza alla razza, ad esempio qui questa ragazza che aiuterà Dylan, come vi ho detto prima, è un indiano, no, non un indiano, ma una sottospecie di pelle rossa, e vedete che proprio dal disegno di Siniscalchi si riesce ad apprezzare al meglio l'etnia e i tratti salienti della razza a cui appartiene questa ragazza. Un po' meno riuscito, secondo me invece, vedete qua anche le donne, come sono state rappresentate bene, sono molto molto femminili. Una cosa che non mi è piaciuta invece, adesso vado a recuperarlo da qualche parte, è un po' la sagoma del volto di Block, che appare quasi una caricatura per quanto riguarda il naso, un naso fin troppo pronunciato, ecco vedete qua in questa scena si vede benissimo, un naso che non mi è piaciuto, troppo davvero sembra il naso di una Befana, Block nella realtà, diciamo non ha un naso così pronunciato, soprattutto così brutto, ma qui sono dettagli. Nel complesso comunque disegni davvero molto buoni, complimenti a Siniscalchi che è riuscito a realizzare su carta un concetto, una sceneggiatura molto articolata, richiesta da, per l'appunto, Mignaco. In conclusione, un'ottima storia che vi consiglio di leggere, se non l'avete ancora letta, 132 pagine, davvero di una goduria immensa, no beh, immensa no, però davvero 132 pagine stese molto bene, un'ottima storia. Voto finale è un bel 8, solo che ci sono i disegni di Siniscalchi che non convincono troppo, quindi oserei dargli un 8 o meno, però rivalutando il tutto, insomma, un 8 va più che bene. Per il momento è tutto, se questa recensione ti è piaciuta, condividila dove vuoi e con chi vuoi, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo di Dilan Dog e noi ci vediamo alla prossima video recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo. Grazie. Grazie.